Ilari Blasi e Francesco Totti si stanno lasciando? Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe pronta a dirsi addio I rumors della separazione di Ilari Blasi e Francesco Totti stanno facendo il giro del web da diversi giorni, secondo quanto riportato da Dago Spia, Repubblica e Il Corriere della Sera, la storica coppia sarebbe pronta a dirsi addio per sempre Ma perché? Leggi anche, Totti e Ilari Blasi si sono lasciati? I motivi della crisi e gli indizi Ilari Blasi e Francesco Totti, la lite a Castel Gandolfo sembra che lo scorso 4 febbraio, durante una gita a Fuoriporta, Ilari Blasi e Francesco Totti abbiano avuto una bruttissima lite nella zona di Castel Gandolfo, ai Castelli Romani Ma perché? I motivi del litigio non sono noti, ma pare che quella sia stata l'ultima uscita di famiglia tutti insieme, da quel momento, infatti, la conduttrice e l'ex calciatore sono stati avvistati sempre separati Il tradimento secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ilari Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega della televisione Pare che Francesco Totti lo abbia saputo e, ovviamente, non abbia gradito la notizia Ma non è finita qui. Fonti vicine alla coppia sostengono che l'ex capitano della Roma si sarebbe innamorato di un'altra La notizia ovviamente non è stata confermata dai diretti interessati e i fan non vedono l'ora di sapere se sia tutto vero oppure no Nel frattempo, sul Corriere leggiamo, le parole da Michelle Unziker solamente cinque giorni fa, la conduttrice, ospite di Michelle Unziker, avrebbe fatto una battuta su suo marito, lasciando intendere che non ci sia niente che non va Ecco le parole di Ilari Blasi su Francesco Totti, stando alle parole della conduttrice, quindi, fra lei e suo marito sarebbe tutto a posto Di seguito il video, Ilari Blasi e Francesco Totti chiariranno finalmente cosa sta succedendo fra loro? Speriamo di sì. Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao